E ciao a tutti, io sono Crio, vi do il benvenuto a questo venticinquesimo episodio su Project Zero 4 Allora, dovevamo inseguire lì il tizio delle maschere Soia, mi sembra Ed era andato Era andato, andato, aspettate un po' ma mi sembra che da qua dobbiamo uscire Scusatemi tanto se la scorsa puntata era corta ma io ero convinto di aver fatto almeno 25 minuti E invece ne ho fatti 16 E vabbè, una ogni tanto ci sta Dunque la porta dovrebbe essere questa per qua Vediamo un po', aspetta, è mappa Oh, mappa Questa dovrebbe essere Eh sì, per forza non c'è nessun'altra porta Dai, rucca Io ho paura che dobbiamo batterlo Patata Patata, cos'è? Cazzo ho detto? Allora dai, dammi qualcosa Tipo delle cure Ok Eh, ma io voglio prendere l'oggetto C'è qualcosa qua Oh Poi Qua devo offrire del vino, cos'è? Wine and food Ah no Le offerte sono decomposte Qua non c'è niente Qua c'è qualcosa Ah, un altro pezzo di maschera Ok Quindi ce ne manca ancora uno? O ce l'abbiamo già? Aspetta che per qua c'è qualcos'altro Dove? Ho fatto Ha fatto suono Non capisco Ah, qua sopra Sulla maschera Pigliala Ah, Blue Spirit Allora, aspettate un po' Madonna, io c'ho un freddo Devo accendermi il riscaldamento Ah, però è vero Spirit Power Badin tu patata Non sono capace Facciamo anche uno di questo Che così quando facciamo le foto Dovrebbe darci più punti Allora Di qua Aspetta Cristina Ce l'ho fatta Cosa hai visto? Otozza 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 Ecco lo sapevo Aspetta Aspetta eh Eh, volevi eh È andato via Aspetta no 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 Ti ho fatta? Ma Cristina Aspetta Dov'è? Eh ma non va Tintu patata Troia Scappa 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 Dai Ma a cagare Mettiamone Una di que- Vai Ce l'ho fatta Hala Cagキa Caglia Volevi Cava di nuovo un pelo per la fine, io sono proprio un genio per far finire le puntate, Cristina d'Avena, ma forse no, sarà da un quarto d'ora quella prima di questa, più che da 16 minuti. Ehm, salviamo su questo, yes, ah l'ho toccato il microfono come sempre, yes chiudi, sommario, ok. Chi abbiamo? Ah, sempre Rukka. Oh, l'ultimo capitolo. Non ci credo. Cerca delle tracce di tuo fratello. Quindi, dove cazzo le cerchiamo le tracce di mio fratello? Ah, qua la mappa si è di nuovo tutta sputtanata. Cerca delle tracce di tuo fratello. Ma scusa però, io voglio vedere, qua dentro non c'è niente. Eh, vedi che c'è qualcosa. Eh, si ricorda il rumore del martello. Non mi ricordo, ok. Qua c'è qualcuno. Voglio prendere l'oggetto che c'è. Vado qua. Rukka. Oh. Ah, Red Spirit Strongs. Qua c'è. Ah, un libro. Soia, nota 3. Ok. Ok. Grazie a tutti 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 Quanti punti mi da ora? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Per qua Qua così Grazie a tutti Grazie a tutti Tanto adesso Dov'è qua? Dov'è cazzo? Dov'è cazzo? Dov'è cazzo? Dov'è cazzo? Grazie a tutti Dov'è cazzo Po' fermo? Dov'è cazzo? 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 Esamina? Dov'è cazzo? 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 500 punti? Dov'è cazzo? Dai cazzo? Dov'è cazzo? Dov'è cazzo? Ma vai cazzo? Dov'è cazzo? Vai cazzo? Dov'è cazzo? Dov'è cazzo? Dov'è cazzo? Dov'è cazzo? Dov'è cazzo? 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 Dov'è cazzo? Dov'è cazzo? Porco maiale cazzo? Come faccio? Vai cazzo? Oh prima o poi finirà? Questa scala? Dov'è cazzo? 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 Dai cazzo? Dov'è cazzo? Dov'è cazzo?